Bene, abbiamo fatto partire il nostro stacchetto che accompagna Spazio Intervista e Bolli Beat, abbiamo aperto anche una diretta sulla nostra pagina Facebook e nel fattempo ci siamo messi in collegamento con l'ospite del giorno, oggi un mercoledì all'insegna del sorriso con una storia di musica che ovviamente salutiamo sempre con tanto affetto perché ci dà l'opportunità di avere questo mercoledì particolare che ci fa radiotrasportare oggi a Francavilla e al telefono abbiamo il frontman della band Out of the Room e stiamo parlando di Antonio Camarda, la quale do il bentrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao amici, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno, allora intanto come va con questo periodo un po' che ci sta facendo impazzire il Covid, la pandemia, però la musica non si ferma? Beh sì, è un periodo molto particolare, purtroppo il gruppo è esterno, certo la musica continua, magari in studio e sempre ci si esercita, però purtroppo siamo fermi comunque. Ma quanti siete? Insomma, presentami un po' la tua formazione. Allora, siamo una ragazza che ha la tastiera, si chiama Maria Lorena Giudice. Oh, ti salutiamo finalmente ogni tanto. La nostra buona rosa. Ecco, ogni tanto c'è una donna e mi fa anche piacere. Il nostro bassista Roberto Campione, poi c'è la chitarra solista Armando Pilastro, la batteria Giovanni Angolone e poi ci sono io, chitarra ritmica e voce. E non che frontman. Allora, intanto salutiamo Giuseppe D'Asenza che si è appena collegato e che ha anche iscritto, quindi ha salutato, ci sono tanti altri, ma man mano che mi arriva un messaggio magari te li rigira, dice buongiorno, sempre con sorriso, assolutamente è all'insegna della musica. Giuseppe, se ti sei appena sintonizzato, in questo momento stiamo per presentare un nuovo inedito che si intitola Prendila Così. Sì, esattamente. Esatto, come nasce invece? Sono curiosa, solitamente non la faccio mai perché la fanno tutti questa domanda, però in realtà te lo voglio chiedere, com'è nata questa formazione? Allora, questa formazione è nata praticamente da un'idea mia e del batterista Giovanni Angolone di portare in contesti live i miei inediti, perché io già da tempo scrivevo canzoni, diciamo molto cantautorali, che poi sono trasformati in chiave rock e abbiamo creato questa formazione. Perfetto, e invece il nome come l'avete coniato, come nasce? Allora, sì, Out of the Room significa appunto fuori dalla stanza e deriva dal titolo di un altro mio drama che è uscito a tra poco. Ah, quindi ti ho rubato un po' una news. Intanto salutiamo Antonio che vi c'è presente, ma assolutamente io faccio l'appello, ragazzi. Salutiamo anche Riccardo che ci augura una buona giornata. Cos'altro mi vuoi dire che riguarda la vostra band, insomma quali sono i progetti futuri, a parte chiaramente questa piccola cricca che ci hai appena regalato, e dove possiamo trovarti per sostenere anche al di fuori di Radio Gela Express la vostra musica? Certo, certo. Attualmente stiamo lavorando ancora in studio, stiamo preparando un piccolo epi di tre brani. Mentilmente usciranno i nostri brani edit, che sono già editi, usciranno mentilmente e quindi gli amici se li vogliono cercare su Spotify li possono trovare su tutti gli altri distributori. E poi se ci vogliono cercare possono trovarci sulla pagina Out of the Room di Instagram. Eh sì, ma noi spiamo, noi spiamo, sosteniamo quindi Fai Benissimo, quindi ragazzi su Instagram. Altra cosa, prendila così, cosa ci volete dire con questo inedito? Allora, con questo drama di che cosa parla? Praticamente un giorno, in un momento particolare della mia vita, mi interrogavo. Ma che senso ha tutto quello che mi capita? Che senso ha questa vita? E poi a un certo punto, ma chi se ne frega? Prendila così. Prendila così, assolutamente. Ci è arrivato anche con tutto il senso della nostra bellissima Sicilia che tanto amiamo. Noi ti mandiamo un abbraccio che parte ovviamente da Gela, ma poi chiaramente si estende tutta la Sicilia e da parte anche di tutti coloro che sono in ascolto in questo momento, non soltanto sui social. E siamo pronti ad ascoltare questo inedito. A te il microfono per presentarlo ai nostri amici. Va bene ragazzi, allora prendila così, ascoltatela. Ciao. Ascoltiamola alla prossima, sempre qui sulle frequenze di Radio Gela Express. Prendila così. Grazie ad Antonio Camarda. Grazie a voi, grazie. Grazie a voi, grazie. Che senso ha questa vita qua? Grazie a voi, grazie a voi. e non la vedi mai rendila così siamo vivi siamo vivi sì rendila così siamo vivi siamo vivi sì rendila così siamo vivi siamo vivi sì E' la tipica domanda fuori luogo. Che senso ha questa vita qua, che porta l'acqua e se ne va? Che se ne va? E te la prova, la mia vita. E te la prova, la mia vita. Doss, vier. Juhu! Che se la vivi, da mi perdierai. Che se non vivi, ma le mojirai. Presti la tu sì Siamo nisi Siamo nisi Ed si Siamo nisi Siamo nisi Siamo nisi Siamo nisi Knight oro su Anna U Siamo nisi Siamo nisi kg Conti la tu sì Grazie a tutti Ma che mercoledì ragazzi Bellissimo questo proprio ci stava Oggi dovevamo proprio aprire così Grazie a Sorridi Music E ovviamente grazie agli Out of the Room Che sono stati veramente straordinari Io veramente spero di averli ancora ospiti Durante la nostra programmazione E durante Spazio Interviste Molly Beat Ma voi siete eccezionali Perché proprio mi fate sentire una carica pazzesca Grazie a Giuseppe, a Riccardo Grazie ad Antonio Veramente continuate a sostenere la musica Perché abbiamo bisogno Insomma di persone Che sanno apprezzare la musica Come voi Un bacio Io ritorno in diretta www.radio.gelaexpress.it Ma vi ricordo che domani alle 11.40 Sono sempre qui sui social A domani Grazie a tutti